Con un fanzoo, only for you. Nel giorno più importante, nella partita più importante, nel momento più importante, Alex Del Piero! L'uomo della storia della Juventus! I grandi campioni si vedono nei momenti che contano, i grandi campioni si vedono nei momenti speciali. Standing ovation per Alessandro Del Piero, il 10 della Juventus. Il Piero! Il 10 della Juventus! Il 10 della Juventus! Il 10 della Juventus! Il 10 della Juventus!